Si può fare cultura di qualità nel territorio, fuori dalla logica del grande evento, mordi e fuggi, e questo concerto di livello nazionale lo dimostra. Luca Berettoni, della Giugì Servizi, ha presentato così l'appuntamento del prossimo 24 febbraio al Teatro Ronconi, che vedrà salire sul palcoscenico Antonio Lussi, musicista e cantante, che presenterà alcuni brani tratti dal suo album Seven, un progetto nato quattro anni fa e giunto a conclusione dopo un lungo periodo di elaborazione, comprensivo di sette brani cantati e strumentali, sette stili musicali differenti, nei quali il basso fa da protagonista e filo conduttore. Abruzzese di nascita, ma umbro di adozione, Lussi è bassista da 15 anni e il suo percorso di formazione si è svolto prevalentemente presso la musica Academy Europe di Bologna. Il 24 sera ci sarà questo spettacolo con grandi ospiti a livello nazionale e internazionale che suoneranno con me il mio album che si chiama Seven, che è uscito l'anno scorso tramite l'etichetta One More Dub in tutta Italia, insomma in tutto il mondo tramite iTunes, Amazon e tutto quanto. Verranno fatti sette pezzi che rappresentano la mia storia e spero che riescano a toccare altre persone. A interpretare musicalmente Seven saranno sul palco anche Agostino Marangolo, batterista di Pino Daniele, Walter Vincenti, chitarrista, oltre che di Paola Turci, di Gatto Panceri e il chitarrista Bianchi. La seconda parte del concerto vedrà protagonisti The Winners, una blues band che presenterà il primo singolo, il cui testo è stato scritto da Gatto Panceri, in previsione del primo album di inediti. L'ingresso è libero.